Ciao, sono Stefano Sturaro, sono il fotografo. Sono due anni che faccio questo lavoro, però sono dieci anni che pratico nel settore della fotografia. Nel mio lavoro mi occupo soprattutto di cerimonie, matrimoni, battesimi, feste in generale e poi mi occupo anche di alcuni settori più specialistici, tipo lo sport, nel service e anche qualcosa nel giornalismo. Potete trovare tutti i miei contatti nel mio sito internet, nel mio studio, il mio studio è GF Produzioni, con selve in provincia di Padova, www.grandef.it, F con E F F E. Potete trovarmi anche alla posta elettronica gfgenovafirenze.fotografia-alice.it e potete trovarmi anche nei social Instagram e Google con il nominativo non solo Reflex. In questo programma mi occupo di riprendere lo staff e le persone che fanno parte del programma con la mia macchina fotografica, quindi sono il fotografo di scena.